Abituati alle notti bianche dello shopping, con negozi aperti fino a tardi e fiumi di gente nelle piazze e nelle strade del centro, in tempo di coronavirus anche questi eventi, che rappresentano una boccata di ossigeno, assumono nuovi format. I comuni di Padova e D'Abbano Terme, insieme alle associazioni di commercianti, hanno così pensato ad una settimana all'insegna dello shopping, la Color Week, l'evento della rinascita, così lo hanno definito, rinascita del commercio e della vita sociale. Per evitare assembramenti e concentrazioni di persone tutte in uno stesso momento sarà una Color Week, quindi andiamo a occupare una settimana, anzi di più dieci giorni di iniziative con tutti i palazzi illuminati, con buoni sconto che possono essere vinti direttamente quando si fanno acquisti nei negozi e quindi anche con premi e addirittura delle macchine elettriche in palio. Dal 3 al 12 luglio, piazze ed edifici storici di Padova e D'Abbano, colorati da installazioni luminose ed incentivi per gli acquisti, come la consegna di buoni sconto, spendibili non solo nei negozi ma anche in piscine e centri benessere. Questi dieci giorni saranno un momento di ripartenza che cercherà di dare uno stimolo alle attività commerciali, agli artigiani, ai pubblici esercizi, ma anche agli alberghi che proprio in questi giorni cominciano la stagione. Durante la settimana i negozi di Padova e D'Abbano seguiranno le loro aperture regolari, il venerdì e il sabato sera invece prolungheranno le aperture fino alle 23. Il mondo del commercio ha bisogno di una spinta forte, il periodo di chiusura ha creato delle grossi problemi economici che possiamo risolvere con questo tipo di iniziative.